Allora, un applauso! Per la seconda primaria, cioè scuola elementare, ha vinto una creazione fatta da più classi insieme, ma è stata scelta quella, per cui è una realizzazione fatta dalla seconda A, B, C e D. Se c'è un insegnante o un bambino che viene a ritirare... Seconda A, B, C e D. Complimenti! Come si chiamano? Ritirano Julian e Giulia e Marzia della seconda A. Per le terze, ha vinto una creazione prodotta da tre classi insieme, che è fatta dalle terze B, C e F. I bambini che ci sono della terza B, C e F, si avvicinassero. Elisa della terza F. Complimenti! Per la quarta, ha vinto la creazione eseguita dalla classe quarta F. C'è qualcuno della quarta F? C'è qualcuno della quarta F? C'è qualcuno della quarta F? Quarta F? Io sono venuta qua a 10 minuti, si è spesa un euro. Nulla? Va bene, questo lo porteremo in classe. Per le quinte, ha vinto la creazione della quinta E. Quinta E. C'è qualche bambino, genitore, insegnante? C'è la maestra Laura che ritira il premio per la quinta E. Complimenti! E anche un bambino, come ti chiami? Ritirano anche Alessio e Lorenzo, complimenti e Benedetta, scusate. Per la scuola dell'infanzia è stata creata un'unica creazione per tutte le sezioni, che è quel bellissimo alberello che hanno addobbato con delle lampadine riciclate e in più con dei lavoretti fatti con il DAS, credo, presuppongo. Per cui, c'è qualcuno della scuola dell'infanzia che può ritirare il premio? La maestra della scuola dell'infanzia mi dicono che c'è. Ciao! Spostate da qua! La maestra Tiziana! Dov'è? Niente! Recapiteremo! Per le scuole medie, scuola secondaria. Per le classi prime ha vinto la prima A, scuola secondaria. Ci sono dei ragazzi? Lo sono tutti allo stand? C'è Daniele che ritira e la professoressa Ciai. Complimenti! Per la seconda, vince la seconda E. Seconda E. C'è qualcuno? Nessuno? Ricapiteremo? Per le terze è l'ultima. C'è la terza E che vince il concorso creativo. Terza E. Nessuno? Recapiteremo, complimenti a tutti. Io ringrazio la preside e la vicepreside che ho visto adesso, il signore Carrettoni e l'assessore dell'Università, Antonio Calendo, per la disponibilità. Grazie a tutti!